Oggi siamo a Villa Petriolo con questi miei carissimi e fedeli amici di Varese che stiamo degustando alcuni nostri vini siciliani e toscani. Abbiamo degustato il Cè, che è lo Chardonnay ex Macone, Chardonnay in purezza che nasce a Segetta, il L'Este che è la novità di oggi, che è il nostro Nerello Mascalese Nerello Capuccio il 2008 e adesso stiamo bevendo, più che degustando, il nostro Rose Nemesis 2007. Quindi lascio la parola ai miei amati ospiti. Buonissimo, non ci sono parole per descrivere la bontà di questi giorni. Laura, io sono più affezionata al Cè, ex Macone. Adesso posso non sentire? Prima sentenza. Questa è la rosa, però il mio preferito è il Gold Pie. Molto bello. No, io come dicevo prima, che vi stavo dicendo, questo qua è un vino anche da post-cena, Ho in piena, ho in piena, la meditazione. O se volete dire, da me, 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 da te, anche, da me, da me, da te, con questo vino, la serata è sicuramente, l'amala schiappata con una, secondo me, con un filetto, una ragazza davanti, e a me, da me. Però, che non ti fa fallire mai? il fai, il fai, il fai non fa fatere male 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 io questo io sono affezionata a Napone e ora siamo a tu io invece sono felice perché ho dato spazio a questa azienda e portando tantissime persone e sono tutte soddisfatte di essere venute poi la prima trovo eccezionale tutti i vini del Villa Petriolo